Stefano Casini, benvenuti, direttore IRPET. Qual è il significato di questa giornata? Come sta emergendo da tutte le relazioni? Ma è chiaro che sta emergendo una forte preoccupazione perché questa lunga crisi che ha caratterizzato la nostra economia a partire dal 2008 ha generato un impoverimento collettivo del Paese e anche quindi della nostra regione che si è comportata un po' meglio ma ha subito ugualmente le conseguenze di questa crisi. Questa crisi è stata una crisi disuguale, squilibrata e ha colpito in modo particolare alcune persone, alcuni soggetti e quindi è aumentata la povertà, la povertà assoluta la povertà assoluta vuol dire la povertà di poter accedere ai bisogni fondamentali, di soddisfare i bisogni fondamentali. Questa povertà assoluta in Italia è passata a 4 milioni di persone, 1 milione e mezzo di famiglie in Toscana abbiamo circa 54 mila famiglie colpite da questo fenomeno, è un fenomeno ripeto in crescita è un fenomeno che anche in questo caso non colpisce tutti nello stesso modo, i poveri sono prevalentemente i giovani i minori che abitano in famiglie povere e quindi sono un fenomeno che ha una doppia preoccupazione appunto quello di essere poveri ma anche quello di rimanere poveri perché diminuiscono le possibilità dei giovani ad esempio di poter accedere a una informazione adeguata e quindi a poter entrare nel mercato del lavoro con redditi più elevati, quindi è un fenomeno che preoccupa fortemente per i presenti e per il futuro. L'iniziativa della giornata è volta quindi a costruire un intervento possibile per combattere la povertà combattere la povertà è importante da tanti punti di vista, il primo è quello di giustizia sociale l'abbiamo detto prima, i poveri soffrono e si trasmette la povertà anche nei prigioni il secondo è economico, sostenere la realtà povera vuol dire sostenere i loro consumi e siccome siamo in un paese in cui manca la domanda interna, sostenere i poveri vuol dire sostenere la domanda interna e quindi favorire anche la crescita dell'economia. Grazie Grazie Grazie